Le due VIP si chiariscono e decidono di lasciarsi alle spalle i dissapori delle scorse ore. La notte, si sa, porta consiglio e finalmente, dopo la nomination, che ieri sembrava aver rovinato il rapporto tra Clarissa e Manila, le due trovano il modo di parlare e chiarire. Mentre sono impegnate insieme a pulire la cucina, le due si abbracciano dimenticando l'astio delle scorse ore. Clarissa ci tiene a specificare di non essersi accordata con le sue sorelle mentre dà il canto suo. Manila racconta di essere rimasta male della motivazione che la ragazza ha dato nel momento della nomination. Non era per sminuire il nostro rapporto, dice la principessa, che, pur avendo motivato la sua scelta, raccontando di non trascorrere molto tempo con l'ex Miss Italia, non ha mai messo in discussione la loro amicizia e l'affetto che prova per lei. Tutto è bene quel che finisce bene.